Buongiorno, vi parlo questa mattina di RecicloQuiz, uno dei nostri progetti meglio riusciti e un format divertente per imparare a conoscere i materiali e la differenziata. Pur essendo la differenziata un punto importante è il piano B, il piano A è ridurre. RecicloQuiz si propone come gioco, divertente ovviamente e coinvolgente, che permette anche a famiglie di mettersi in gioco per conoscere le procedure di conferimento dei vari materiali, ma è anche uno strumento molto potente per poter giungere a portare degli esempi di alternative, tant'è che chi di noi si è preparato per proporre il RecicloQuiz fa anche una ricerca sui materiali alternativi di quelli che vengono presentati. Per ora siamo a tre sessioni, 45 materiali diversi, stiamo preparando all'interno dell'associazione le persone che, dei nostri volontari, vogliono cimentarsi nel diventare poi dei portatori di RecicloQuiz, chiamiamoli così, comunque dei gestori del RecicloQuiz all'interno di scuola, all'interno di associazioni, anche in contesti pubblici dove la famiglia si riunisce magari in un parco e si vuole svolgere questo tipo di attività. Avremo modo di conoscerci, di farvi conoscere questo meraviglioso strumento divertente che sta funzionando e che ha portato ad una maggior consapevolezza dei materiali. State con noi, state collegati, ci vediamo presto, se tutti facciamo poco insieme possiamo fare molto. Ciao!